Buongiorno da mattino 6 per questo Giovedì 13 aprile, oggi si ricorda Santa Ida Andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani Iniziamo dalle pagine del centro Torna l'incubo della mucillagine Pescara l'allarme della marineria Meno pescato e costi sempre più alti A centro pagina ragazzi si parte il boom delle gite scolastiche E poi il futuro delle asl sanità Lo stop dei sindacati al piano della regione Abruzzo Nomine bancarie per Iacobini, presidenza abissa La commissione abi regionale Nelle cronache su Pescara ogni notte in 200 dormono per strada Il comune di Pianella d'Ambrosio sospeso da consigliere E poi ancora su Pescara basta con i politici corrotti Monito del vescovo Valentinetti alla messa per i giovani Chiude il salone il vinitali Montepulciano a scala Il gusto degli americani E poi all'interno il suicidio assistito italiano malato Va in Svizzera per l'eutanasia Il calcio, il Dortmund Attacco al bus e terrorismo preso islamico Di taglio alto Emilia Fuga senza fine del killer Continua la caccia a Igor Un testimone dice l'ho visto Titoli di apertura del centro Nelle pagine dedicate alla provincia di Chieti Schiacciato dal trattore a 44 anni Guardia Grele operaio perde la vita Davanti al figlio che tenta di soccorrerlo Nelle cronache Bucchianico Anziano muore dopo un volo di 10 metri A Tessas viene alla seve I colleghi scioperano Ancora Chieti Condannato scippatore seriale Inflitti 4 anni e 3 mesi A un giovane che terrorizzava le anziane Il centro nelle cronache dedicate Alla provincia di Teramo Picchia i genitori per soldi Arrestata Atri La ragazza di 20 anni era stata allontanata dalla casa di famiglia A Teramo il teatro guerra tra la CS e la Ricitelli A Giulianova Mastromauro pensa alle dimissioni Università di Teramo centro di ricerca Nell'ex mensa servirà la facoltà di bioscienze e l'industria alimentare Titoli di apertura dell'edizione dedicata alla provincia di L'Aquila Berlusconi puntate su biondi comunali all'Aquila L'ex premier cerca di ricompattare il centrodestra Nelle cronache e la ricostruzione L'Aquila cialente dice Chiedo scusa a tutti per i ritardi A Sulmona coltivazioni di cannabis a uso terapeutico A Vezzano rinasce la ex scuola Montessori Il sindaco di Pangrazio inaugura il nuovo salotto della città Titoli di apertura del quotidiano Il messaggero nelle pagine dedicate alla nostra regione Il sisma, regole per la ricostruzione Aziende, abitazioni, centri storici Cosa prevede l'ordinanza 19 varata dal Consiglio dei Ministri Coperte anche le prime case fuori cratere È polemica sulla zona franca L'Aquila e biondi la risposta del centrodestra Il centrosinistra con Di Benedetto A Pescara verde cultura nel distretto della Conoscenza Il piano del comune per il quartiere universitario Due morti a Chieti nelle campagne una giornata nera Le vittime sono un uomo rimasto schiacciato dal trattore Un anziano che raccoglieva asparagi Di spalla un salvatore dalla Provenza per l'allevatore di Civitella Una favola bella era rimasto senza stalle e bestiame Dopo la neve di gennaio Teramo Teatro vai scena La guerra dei gestori E poi di taglio alto La lezione, il PM Gratteri L'Andrangheta è qui Abruzzesi fate muro Il racconto, il carabiniere olimpionico Dice il mio sprint vincente Con il rapinatore Il calcio, la seriala partitissima Meno due alla Juve Byback spera Mega turnover di Allegri Titoli di apertura Del quotidiano La città Brucchi stufo Dei giochi di palazzo I dissidenti chiedono Il congelamento del rimpasto Il sindaco a Roma per sisma Periferie e zona franca A centro pagina La guerra comunale La cultura La CS Ricitelli Allo scontro Sulla stagione di teatro E poi il verde pubblico Pagato a peso d'oro Alba L'ex presidente del consiglio Contesta le spese La crisi a Teramo Parte del PD Pronta a votare La casa dello studente E poi Ginoble e Minosse Dicono I due Luciano Non portano bene Al partito democratico La storia Via dall'euro E da Teramo Per fare il signore In pensione In Romania Di taglio alto Rosetto degli Abruzzi Il mercato potrebbe tornare Nelle tre piazze E ad altri Botte e genitori Per soldi Ventenne Arrestata Vediamo anche i titoli Di apertura dei quotidiani nazionali Iniziamo dalle pagine Del Corriere della Sera Trump Putin La lite siriana Il leader russo Rapporti peggiorati Poi prove di dialogo Con l'inviato Degli Stati Uniti E poi per il documento Di economia e finanza Niente taglio IRPEF Stretta sulle agevolazioni Meno imposte sul lavoro E tasse Per l'Airbnb La Repubblica Dortmund La pista islamica I calciatori dovevano morire Arrestato iracheno Caccia il complice Merkel dice Attacco ignobile Un'intervista a Papa Francesco Il mondo fermi Questa guerra a pezzi Il messaggero Lavoro Tasse giù L'IRPEF Non cala Documento di economia e finanza Nessuna revisione Delle aliquote Ma c'è il taglio del cuneo fiscale Sì Al reddito di inclusione Dalla manovrina 5 miliardi Per evitare l'aumento dell'IVA Catasto Niente riforma Ma solo il riassetto E poi Borussia Sono bombe di terroristi Arrestato un iracheno Vicino all'ISIS Tensione Stati Uniti Russia Sul futuro di Assad Ma si indaga Sui gas Tillerson Incontra Putin I rapporti ai minimi Ma ci sono spiragli Trump dice Il raiz Un animale Il fatto quotidiano Titola Renzi Mente in tv A colpi di insulti E minacce al fatto Consip Dice Falso quotidiano Ma non smentisce Una sola Delle nostre notizie E poi la manovra Per i ladri Condono fiscale Per gli onesti Niente tagli IRPEF Chi ha contenziosi Sul fisco Può pagare subito Ed evitare Le sanzioni Il giornale Jihad contro i VIP Colpite le celebrità Bomba sui calciatori Del Borussia Arrestato un islamista Legge minniti Sui migranti E rimpatri Più facili Il mattino Consip Il capitano Sapeva Atti falsi Contro Tiziano Renzi Due carabinieri Accusano Scafarto Giusti i nostri Verbali L'interrogatorio Dei militari Lo informammo Che nessun 007 Ci pedinava Lo scontro Tra procure Al CSM La Siria Non c'è pace Senza Stati Uniti E Russia Il ministro Pinotti Assad Non è il futuro Ma oggi c'è bisogno Di tenere il conto Il tempo Nei guai Fino al crollo Il dossier Shock A rischio 8 case su 10 A Roma In caso di terremoti Alluvioni Offrane Ed ecco la mappa Della paura In città 20 zone rosse Gli esperti All'aggiunta raggi Dicono Fate presto E poi Tra Agnelli E Biberone È tornato il buon pastore La Boldrini Ospita le pecore Besti alla camera E a spasso Nella capitale Ci sono maiali Cinghiali Ora spunta anche un toro Libero titola Soldi ai poveri Chi paga Il PD Fa concorrenza grillo Il reddito di inclusione È irrealizzabile Gravirà Sul debito pubblico O comporterà Un aumento del fisco Il premier Si rimangia la promessa Di tagliare l'IRPEF E conferma La fregatura Sull'IVA Alle aziende E poi Il governo Scafista L'Europa Ci prende in giro Meritate il Nobel Per gli immigrati L'unità Ci stiamo imprigionando Un mondo Che edifica muri Verso gli altri E finisce per limitare Chi li costruisce Ne abbiamo contati a decine Dal Messico All'Ungheria Dal Marocco A Israele Di Maio mette Il suo mattone xenofobo Bollando i cittadini Romeni Come criminali E Bonino apre Una breccia Con la legge Per l'abolizione Del reatto Di clandestinità Nel documento Di economia E finanza Meno tasse Sul lavoro Per chi assume Giovani E donne La stampa Povertà Il piano del governo Assegno A 600.000 famiglie Riceveranno Da 300 A 500 Euro al mese Il via A maggio Nel DEF Niente riduzione IRPEF Sia al taglio Del cuneo fiscale E poi la Francia Risale Il candidato Della sinistra Melenchon E Le Pen Il duello Tra populisti Scintille Putin Trump Rapporti peggiorati Assad E malvagio Washington La Russia Minaccia Il Montenegro Il secolo XIX A segno di povertà 600.000 famiglie Pubblicato il DEF Calerà il costo del lavoro Ma non l'IRPEF Manovra le misure Fino a 7.000 assunti Negli enti locali E poi l'attentato a Dortmund Fermato Un islamista Il manifesto titola Di Maio In peggio L'Italia importa Il 40% Il 40% dei criminali Romeni La sparata razzista Dell'aspirante premier De Cinque Stelle Luigi Di Maio Scatena La rivolta Della comunità Dei migranti Dell'Est E mentre il decreto Etnico Di Minniti Diventa legge Frontex Attacca le ONG Bonino lancia La legge Controlla Bossi Fini E di taglio alto Putin apre agli Stati Uniti Dialogo sulla Siria Mosca incontra Tillerson All'ONU Mette il veto Il sole 24 ore Il Cuneo Spending Review IVA La manovra parte Da 17 miliardi Decreto correttivo Split payment Anche per i professionisti L'avvenire Siria Tra i grandi Volano solo parole Trump alza i toni Tillerson E Lavrov Mediano Il dubbio Titola Pignatone Denuncia il flirt Tra certi PM E certi giornali Il gazzettino Manovra Sparito Il taglio Dell'IRPEF La politica Meno tasse sul lavoro Impegno del governo Sugli statali 5 miliardi Per evitare L'aumento dell'IVA Approvato il DEF Nessuna sforbiciata Ma riduzione Del cuneo fiscale Scuola L'accordo Sui trasferimenti La gazzetta Del mezzogiorno L'IRPEF Gentiloni Non taglia Giù il cuneo Reddito di inclusione Per le fasce sociale Più deboli L'IVA farà salire La pressione fiscale Il governo Dice la Sterilizzeremo E poi da Israele A pasticci Allarma il progetto Di un altro Gasdotto La verità Colpo di mano Per trasferire I PM Guai a chi indaga Sui politici Calderoli Della Lega Dice nel caso Consip Sento puzza Di servizi Segreti E poi Islamico Anche L'attentato Alla Champions Per le bombe Contro il bus Del Borussia Dortmund Arrestato Un iracheno Sostenitore Dell'Isis Ci spostiamo Sulle pagine Del centro In apertura Abruzzo E viaggi Scolastici E boom Delle gite I commossi Viaggiatori Un mito Che non tramonta Con preoccupazioni Per la sicurezza Le mete Sono decise Anche in base Ai costi Per chi Non ce la fa Pagare Esistono I contributi Volontari Ma i prof Disponibili Sono sempre Di meno Troppe Responsabilità E poi La polizia stradale Dice mezze conducenti Lunga è la lista Di controlli E verifiche In genere I problemi Sono di tipo Tecnico Come gomme usurate Revisione scaduta O estintori scarichi Ma non mancano casi Di rapporti di lavoro Poco limpidi E poi L'azienda di trasporto Dice dalla manutenzione I contratti di lavoro Tutti i costi Dei bus La sicurezza Ha un costo E sotto una certa cifra Non si può scendere Così dovrebbero pensare Anche le scuole I controlli Rappresentano Una certificazione Della qualità Manovra e documento Di economia e finanza Cancellato Il calo dell'IRPE Fu un reddito Per i più poveri La guida All'intervento Varato dal governo Copertura Ancora da definire Piano per chi perde Il lavoro E stangata Sulle lotterie E spunta Una dote Da 5 miliardi E poi Juncker dice La direzione è giusta Gentiloni Patto di stabilità Non sia camicia di forza La CGL dice Chiarire Sui contratti La paura In Germania Dortmund Sono sicuri E terrorismo Tre Esplosioni Contro il bus Del Borussia Punte metalliche Negli ordigni Trovata rivendicazione Ed è stato arrestato Un iracheno E poi Allo stadio Le tifoserie Le tifoserie unite La Champions Monegaschi E tedeschi Insieme Sugli spalti La legge Sicurezza L'Italia Cambia le regole Il sì al decreto Ma 5 senatori PD non votano Più poteri e sindaci E arriva anche Il DASPO L'accoglienza E la sicurezza Migranti Passa La linea Minniti Dalla Camera Sia a norme Sui centri di espulsione E tempi per l'asilo MDP Vota Contro il governo E poi la bufera Su Di Maio In Italia Il 40% Dei criminali Romeni Promuove un incontro Antivaccini E scoppia Il caso Zaccagnini In mare Troppi soccorsi privati Il direttore di Frontex Accusa alcune organizzazioni Operative Nel Mediterraneo E poi arriva la proposta Delle associazioni Un permesso Per cercare lavoro Parte la campagna Ero straniero Missione Superare La bossi fini La crisi internazionale Trump e Putin Divisi da Assad Deve lasciare Il vertice al Cremlino Tra Tillerson Il presidente Ma per gli Stati Uniti C'è anche La grana Corea E poi Le bombe al Sarin L'ONU Divisa Sull'ispezione Il veto di Mosca In Turchia Referendum al 52% I sì Per Erdogan E' stato decisivo Il dialogo E' decisivo Il dialogo Tra Russia ed Europa Mattarella Ha concluso La visita Di Stato Incontrando il patriarca Ortodosso Kirill Pace Tra i popoli Davide In Svizzera Sarà aiutato A morire Non ce la faccio più Malato di sclerosi Accompagnato in clinica Da Mina Welby Il caso del paziente Toscano 53enne Dopo quello Di DJ Favo E poi La caccia Al killer Il mistero Della barca Aumentano le preoccupazioni Dei residenti Molte le segnalazioni Il serbo Igor E il doppio Omicidio Di Budrio Pubblica istruzione Scuola Via All'operazione Mobilità I docenti Potranno incontrare Inoltrare le domande Fino al prossimo 6 maggio La pagina aperta Sulla nostra regione La polemica Sul futuro Delle asl Sanità Lo stop dei sindacati Al piano Della regione La delibera Sulle linee guida Prevede figure inutili E che costano 1,6 milioni La replica Dell'assessore regionale Alla sanità Paolucci Quei ruoli Sono necessari Disponibili A trovare Un accordo E allora Come detto Ieri A parlare Sono stati Sindacati Proprio Per contestare Quelle che erano state Le disposizioni Le dichiarazioni Dell'assessore Alla sanità Sulle asle Vediamo Noi Fondamentalmente Contestiamo Il fatto Che sono state Individuate Nuove figure Professionali Un coordinatore Di area Territoriale Un coordinatore Di area Ospedaliera Due per ogni Als Quindi 8 Con un costo Complessivo Di 1 milione 600 mila euro Che non sono Previste Nessuna norma Del contratto Nazionale Per la dirigenza Medica Quindi un aggrave Di spesa Non giustificato Che si sovrappone A quelle che sono Già Le direzioni Amministrative Sanitarie Generali Di ogni Azienda E che Alle quali Si possa accedere Soltanto con Un'anzianità Di 7 anni Con un master Di secondo livello Molti parlano Della Bocconi Noi li definiamo Due super pippo Noi organizzazioni Sindacali In un contesto In cui vengono Tagliati Gli incarichi Dirigenziali Tutti i medici Decadranno dagli Incadichi Dirigenziali Anche quelli Che hanno Un contratto In essere In un contesto In cui viene Decurtato di Un milione Di euro La spesa Per il personale In un contesto In cui non vengono Ancora recepite Nel fatti Le linee Guida europee Le leggi europee Per meglio dire Che dovrebbero Obbligare Tutte le regioni Ad assumere Nuovi medici Per rispettare Quello che è L'orario di lavoro E che vi assicuro Non è assolutamente Rispettato Contestiamo Anche La formazione Di dipartimenti Che non hanno Motivo di essere Nel momento In cui dovrebbero Aggregare Unità operative Complesse Che non esistono Quindi dovrebbero Essere prima Create le unità Operative complesse E poi i dipartimenti Con nuove spese Insomma Noi siamo contenti Per dirla tutta Di essere usciti Dal commissariamento Purché Questa uscita Dal commissariamento Non debba Significare arbitrio E temiamo Che è quello Che sta succedendo Nella regione Abruzzo Un'ultima cosa Ma la dovete lasciare dire Io lavoro a Lanciano Sono nato a Chieti Ho lavorato Tanti anni a Chieti Ma questo Emendamento In Parlamento Che è stato approvato Che esclude Dal decreto Lorenzin Delle aree del cratere Porta in pratica Che solo all'alzi Di Lanciano Vasto Chieti Sarà applicato Il decreto Lorenzin Io questo Ritengo Che sia Una profonda Ingiustizia In un ospedale Ab Soprattutto Quello di Chieti Come ben sapete È un ospedale Che rischia Di chiudere Per grave Deficienze Strutturali Noi stiamo Lavorando Assolutamente Non in sicurezza E il mio timore Che una scossa Di terremoto Possa creare L'immaginabile Se i politici Invece di pensare Al proprio tornaconto Al proprio Orticello Capissero Che è l'interesse Di tutta la regione Abruzzo Secondo me Dovrebbero essere Più equilibrati E più obiettivi Nelle loro decisioni Ancora sulle pagine Del centro Le banche E tutte le nomine Per Iacobini La presidenza Bissa La commissione Dell'ABI E poi proposta Di legge A sostegno Dei prodotti Tipici Nel cratere Di taglio basso Corte costituzionale Addestramento Cani Nei parchi Bocciata La norma regionale L'Abruzzo Al Vinitaly 2017 Il Montepulciano Scala il gusto Degli americani L'anno giornalista New Yorkese Levi Dalton Dice il prodotto Più apprezzato Via un progetto Per ottenere La denominazione D'origine Del vino cotto E poi Il record Di presenza Il salone Dà appuntamento Al 15 aprile Del 2018 All'Italia Assalta la trattativa Il governo Prova a ricucire Lo strap con i sindacati L'azienda Sospende i confronti Esecutivo in campo E avanti Con incontri separati Oggi tocca Ai rappresentanti Dei lavoratori Di spalla Cabina ITEC Ideata da team Apre a Firenze La pagina Dedicata La cronaca Di Pescara Una città fantasma Più di 200 Dormono in strada Ogni notte Le loro storie Raccolte dal centro Sui camper Dei volontari Come è cambiata Pescara Trasandata e ferma Ma può ripartire Pomiglio e Ciferni Dicono Serve una visione E poi Il nuovo stadio Si ragiona Su un'ipotesi Progettuale L'assessore allo sport Diodati Ribatte così A De Sanctis Del forum Dell'acqua Che aveva chiesto Di visionare gli atti Comune Belle arti Non esistono I laborati A San Donato Chiude il corso Per allenatori Carcere Percorsi di rieducazione Alla legalità E poi l'allarme Di confartigianato Città deserta E commercio K o l'associazione Sollecita Soluzioni su criminalità Terrorismo E abusivi Torna all'incubo Mucillaggine Meno pescato E costi più alti La marineria Segnala la presenza Della sostanza In un'area molto ampia Grosso Di chiara Situazione grave Le reti si tappano E consumiamo Più carburante Uffici Asl Nuovi orari Di apertura Al pubblico Sempre su Pescara E poi il soccorso Un turista Recuperato In elicottero A Capri Di taglio basso Da Vinci Gli studenti In piazza grue I locali disponibili Dal prossimo anno Scolastico Saranno sistemati Dalla regione E poi un riconoscimento Per le attività Culturali Pescara ottiene Dal ministero Il titolo Di città Che legge Gli after hours In piazza Per il primo maggio La band Simbolo del rock italiano Anni 90 Si esibirà Nel giorno Della festa Dei lavoratori Con i gruppi locali Vaina In management Del dolore Post operatorio I cascele La ceramica Oggi al salotto Del FAI E poi di taglio basso Fa soffrire Essere lasciati Soli In lezione Sulla legalità Dell'ex parroco Di Scampia Incanta I ragazzi Dell'Ipsar Arriva l'appello Dell'arcivescovo Valentinetti La politica Sia sana Senza corruzione Nella messa Crismale Valentinetti Si scaglia Contro i potenti Del mondo Ed esorta i giovani A creare una società Più giusta Frutti e ortaggi Freschi Per l'alberghiero L'orto didattico Della scuola E' stato tenuta E' stato tenuto a battesimo Da 57 ragazzi disabili Ed ecco tutti i nomi Pubblicati Sulle pagine del centro Montesilvano Il racconto Del carabiniere Campioni Il ladro Correva ma non si aspettava Un ex Olimpionico De Benedictis Racconta La cattura Del giovane Del gambia Mi tengo in forma Seguendo abitualmente I miei due atleti A città Sant'Angelo Giovedì Il comunale Lo spettacolo Di Giorgio Pasotti E poi di taglio basso La festa dello sport La carica Dei 400 I piccoli alunni Della Silone Atleti percorri Salta e lancia Nella pista Di via Senna Ancora su Montesilvano Il progetto Di inclusione attiva Servizi di assistenza sociale Stanziati 216 mila euro Ci spostiamo a Pianella Sospeso per la legge Severino D'Ambrosio non è più consigliere A Pianella L'ex sindaco E parlamentare del PD Durante il governo Prodi Oggi nelle file dei socialisti Lascerà lo scranno Alla prima Dei non eletti Federica Crisante Dopo la condanna Per peculato E poi il bilancio KO in commissione I venti di crisi Montesilvano De Martinis Dichiara bocciatura Dettata Dal no A inaccettabili richieste Ci saranno gravi Ripercussioni Alla biblioteca Di spoltore Pittura delle uova Per giocare a scucchie Poi Ancora su Montesilvano Incontri con l'autore C'è Gli annacci Andiamo avanti Fimiani Grave Ingannare La buona fede Dei passanti A Francavilla Nuova iniziativa Del comitato Risorgi Sirena Contro la petizione Lanciata dal sindaco Luciani Per dire sì Alla demolizione Del palazzo storico Sempre a Francavilla Nerioni Michetti E Pretaro Installate due nuove Casette Dell'acqua L'Atari Non riscossa Per un milione A San Giovanni Teatino Il gruppo SGD Contesta al sindaco La gestione Dei rifiuti A Cepagatti Sborgia Danneggiato Un pilone Sul fiume E poi A Manopello Festa della primavera Con botanici E cantastorie All'arboreto Cipressi Alla scoperta Di piante Dessenze rare Collezioni Sugli insetti E sull'uso Di erbe officinali Musiche E giochi Didattici Provinciale 41 Ignorate Le vere urgenze Rosciano L'opposizione Critica I lavori fatti Servivano Rotonde Per limitare La velocità E non aiuole L'atleta Di San Valentino Mastro di casa Nuova impresa E quinto Nella grande Corsa bianca Appenne Al Marconi Aule Entro ottobre Di Marco Assicura Nuove soluzioni Per la scuola Lesionata dal sisma E poi Riti Pasquali Il venerdì santo Per Rigopiano La processione Del Cristo morto In ricordo Delle vittime Loretesi La cronaca Di Chieti Tragedia Guardia Grele È stato schiacciato Dal trattore Muore a 44 anni Il mezzo Si ribalta Nel terreno Di Villa San Vincenzo Il figlio adolescente Si ferisce Mentre tenta Di soccorrere Il papà E poi Un altro incidente Volo di 10 metri Fatale A un anziano Di Bucchianico Arriva a Chieti Il Targa System Multa e a raffica Per chi entra in città Si chiama Targa System E stanno a tutte le auto Che circolano Senza revisione E assicurazione Il terrore Degli automobilisti È da qualche giorno È arrivato anche a Chieti Può anche sapere Se un'auto è rubata Grazie al collegamento Con diverse banche dati Sempre Chieti Condannato Lo scippatore seriale Inflitti 4 anni e 3 mesi Al giovane Che strappava Catenine dal collo Delle signore La pagina dedicata Alla cronaca di L'Aquila Verso le comunali Sul voto Piomba Berlusconi L'ex premier Vuole una candidatura Unitaria Il centrodestra Si ricompatta Su Biondi Forza Italia blocca L'annuncio di Liris In pista Meloni Di Fratelli di Italia E a N Annulla La visita in città Prevista per oggi I salviniani Aprono all'ex sindaco Di Villa Sant'Angelo E poi il vertice a Roma Con alcuni parlamentari Pagana ha dichiarato Silvio si è speso Tanto per l'Aquila Non ci saranno divisioni L'ex manager Per Asla Silveri Dice io vado avanti Da solo Arriva il titolo Noris causa Dal Giappone Conferito Alla rettrice Inverardi Ad Avezzano False voci Di rapimento A scuola Genitori terrorizzati Ridolfi Di sacro cuore Dice diffuse Per creare panico A Sulmona Canapa Coltivata Scopo terapeutico Azienda italo-olandese Pronta a seminare Otto ettari Di terreno Andiamo a Teramo Violenza in famiglia Botte ai genitori Per soldi Arrestata In carcere Una ventenne Di atri L'anno scorso Il giudice L'aveva già allontanata Da casa Per maltrattamenti Ai familiari Nasce il centro Di ricerca alimentare Università 8 milioni Per l'ex emenza A coste Sant'Agostino Sperimentazioni Anche per le imprese Il sindaco Di Giulia Nova Potrebbe candidarsi Alle politiche Mastro Mauro Dice possibile Dimissioni Entro settembre Ci separiamo Per una breve pausa Spazio alle previsioni Di Luca Mennella Tra poco Seconda parte Della nostra rassegna stampa Ci spostiamo Sulle pagine Della messaggera In apertura Post sisma Ammesse al contributo Al 100% Anche le seconde case Ecco i dettagli Dell'ordinanza Numero 19 Che disciplina Le modalità Di ricostruzione Nel cratere sismico 2016 Tutti i dati Nelle pagine Del messaggero Specifiche norme Per l'ammessibilità Al finanziamento Delle misure Di efficientamento Energetico E poi la sanità I sindacati Contestano La svolta La svolta Di Paolucci Le nuove figure Professionali Sono dei super pippo Ampo Aupi Cimo Cisle Medici E SMI Minacciano Di impugnare La delibera Dell'assessore Taglio basso Gratteri Contro le mafie Servirebbe ergere Un muro Il caso Della cellula Dell'andrangheta Con quartier generale A Francavila Ormai È radicata Dove non si immagina A Pescara Nasce il distretto Della conoscenza L'università Al centro del piano Di riqualificazione Dell'area Di Viale Pindaro Illustrato ieri Ai portatori Di interesse Trasporti Delocalizzazione Dei vigili del fuoco Parchi E impianti sportivi Gli ingredienti forti Di verso Pescara 2027 Stefano Civitarese Ha dichiarato un sistema Di mobilità sostenibile Per colmare il deficit Di relazione Tra l'Ateneo E l'ambiente urbano E poi il sindaco Collaudatore Crollato Anzi no La bufala del Ponticello È dovuto andare Personalmente sul posto Di prima mattina Con telecamera Al seguito E non limitarsi A un rassicurante Videomessaggio Giunto al centro esatto Della campata Anche ripetutamente Saltellato E passeggiato Per dimostrare Alla cittadinanza E agli increduli Che il Ponticello Ciclo pedonale Su Fosso Grande È perfettamente Solido in piedi Un collaudo Che considerando I chiletti di troppo Accumulati dal sindaco Alessandrini Nel primo anno E di stressante attività Mette definitivamente Fine al parapiglia Scatenato Da un fake Comunicato Del vice capogruppo Di Forza Italia Vincenzo Dincecco Che l'altro ieri Ha seminato il panico Annunciando Dei pescaresi Crollato miseramente Dopo appena Otto mesi Dalla sua inaugurazione Franato sotto L'azione dell'erosione E degli smottamenti Che lo hanno reso Inagibile Il giallo Sul nuovo stadio Adriatico Il forum Del movimento Per l'acqua Dice un progetto Fantasma La riqualificazione Difficile Nessun atto Depositato In soprintendenza La replica Di Diodati Siamo in una fase Interlocutoria Primo maggio Con gli after hours L'amministrazione Comunale Ha reso noto Il programma Con un video annuncio Che è stato girato A piazza Salotto L'ospite di punta Sarà Martin Guevara Fratello più piccolo Di Ernesto Che presenterà Il suo libro Mi hermano Il C L'appuntamento Fissato per le 17.30 Aprirà una stagione Che l'assessore Cuzzi Definisce ricca Di concerti E poi i ragazzi Del Dececco Coltivano e studiano Frutta e ortaggi Studiare da chef Il terreno Di 600 metri quadri In via dei Marzi È un luogo Di accoglienza E formazione Scappava Ma ho corso Più di lui Parla Giovanni De Benedictis Il vice brigadiere Ex campione Olimpico Di marcia Autore Martedì Dell'arresto Di un rapinatore Il mio collega Del radiomobile Ed io Siamo arrivati subito Al chicco d'oro L'ho visto fuggire E mi sono lanciato a piedi Quanto accaduto È normale Amministrazione Per noi carabinieri Siamo un gruppo Affiatato E poi L'effetto Bronx Commercio abusivo E senza tetto Allarme sicurezza Di confartigianato Aggressioni E furti in centro Più mezzi E agenti Questa la richiesta A Montesilvano Oggi una mattinata Tutto sport Sulla nuova pista Di atletica Di via Senna Ci saranno le scuole In campo E poi All'Aquila Lavori pubblici Entro l'anno Opere per 56 milioni Di euro L'amministrazione comunale Ha stilato il bilancio Del piano triennale Del settore Ecco l'elenco Di tutti i lavori Conclusi E di quelli Che partiranno Entro breve Tra i ritardi maggiori Lo stesso sindaco Ha annoverato La ricostruzione Di Palazzo Margherita Sede Municipale Di spalla Il personaggio Per la Inverardi Dottorato Onori Scausa Arrivato dal Giappone E poi La consulenza L'incidente Il giovane tenore Fu investito Dal bus Fuori dal liceo Lesioni riportate Dal giovane studente Del liceo musicale Compatibili Con l'investimento E non con una semplice caduta Fa un passo in avanti La controversa Vicenda giudiziaria Presso il giudice Di pace Relativa a un investimento Del 2013 Di un quindicenne Oggi promettente tenore Assistito dall'avvocato Maurizio Dionisio Centrodestra Biondi Candidato unitario Si attende L'ok azzurro I salviniani Convergono Forza Italia Si prende Qualche ora E Pagano dice Per Berlusconi Priorità L'unità Della coalizione Rinviata alla visita Della leader Di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni Prevista per questa mattina E poi il post Primaria Sempre all'Aquila Di Benedetto Un summit Di coalizione Per le liste Sul tappeto Anche l'ipotesi Di una formazione Cialentiana Nel PD Quasi tutti Saranno ricandidati Fabiani ODC Sono alla finestra Silveri Sotto inchiesta Fatti del 2010 Dice E' strano E poi il congresso Democrat Fina Capolista Con Orlando E' out Il sindaco Il primo cittadino Dice La mia esperienza Avrebbe rappresentato Un segnale Per l'Aquila Ad Avezzano Ex Montessori Inaugurazione E polemiche Affollatissimo Taglio del nastro Del nuovo edificio La sala polifunzionale E' stata intitolata Nicola Irti Ma l'ex assessore De Angelis Puntualizza Non tutti i meriti Sono del sindaco Va considerata Anche l'opposizione All'avvocato Scomparso Figlio del giurista Natalino Il ricordo Dei presenti A Sulmona Multe dimezzate Ma mancano I vigili Il comandante Antonio Litigante Dice I varchi elettronici Hanno funzionato E c'è stata più collaborazione E poi Sempre a Sulmona È l'ora Delle processioni secolari Stabiliti Sorteggi Di chi sarà Protagonista Dei due cortei storici A Chieti Incidenti In campagna Due morti Nel Chietino Un anziano Di 71 anni Precipita Da un pendio Mentre raccoglie Asparagi È stata disposta All'autopsia E poi Un giovane Scippatore seriale Condannato A 4 anni E 3 mesi Per carbet È scattata L'accusa Di rapina In tutti gli episodi Fu incastrato Da una telecamera Ignoto Invece Il complice Università Fusero Dice corsi Ma anche servizi Per attirare studenti E poi per le opere A largo barbella Tunnelfermo Marzoli Del PD Dice ritardi Ingiustificati Santa Croce Ecco il nuovo depuratore L'impianto Servirà 15 mila utenti E costa 4 milioni e mezzo Comincia finalmente a respirare L'inquinato Fiume Feltrino Basterebbe Dice Abbiamo a cuore Il risanamento ambientale D'Alfonso I soggetti idrici Ora devono industriarsi Per i progetti La Sasi brinda E lascia per ora Alle spalle La figuraccia Dei 12 impianti Sequestrati Abbasto Ieri inaugurata La day surgery L'anno scorso Sono stati 1440 Gli interventi effettuati L'assessore Paolucci Il sindaco Menna Il direttore Della Asl Flacco Hanno dichiarato Veramente Un piccolo gioiello E allora come detto Ieri taglio del nastro E presentazione Anche del nuovo polo Vediamo Un anno di lavori E 330 mila euro Di investimenti Da parte della Asl Teatina Abbasto E' stato tagliato Il nastro Della nuova unità operativa Di day surgery Dell'ospedale San Pio di Pietrecina Insediata All'interno dei locali Dell'ex centro di igiene mentale Attivi al blocco operatorio La nuova unità operativa Ha a disposizione 8 letti Con nuovi arredi Ambulatori Locali di servizio E spogliatoi Ad uso del blocco operatorio La day surgery E' stata strutturata Come una unità operativa Semplice dipartimentale Nell'ambito Della organizzazione aziendale E la responsabilità Del reparto E' stata affidata All'anestesista Filippo Marinucci Quadiuvato dal caposala Cosimo Pizzuto Di spazi Lasciati liberi Dal day surgery Sono stati destinati All'osservazione breve In modo da alleggerire Il carico Sul pronto soccorso Beh intanto Abbiamo reso Molto più funzionale Il presidio Sul comparto Della rete di emergenza Urgenza Dedicando il reparto Del lobby Al pronto soccorso Già corroborato Dalla presenza Delle medicalizzate Da san salvo All'interno del vastese Che hanno rafforzato La rete di emergenza Urgenza E in secondo luogo Abbiamo dedicato Un altro pezzo Di lavori Alla inaugurazione Del day surgery Che non solo Rappresenta oggi Un ambiente più Confortevole Rispetto al precedente Ma che è anche più sicuro Poiché ha i reparti stessi Molto collegati Alla parte Diciamo Delle sale operatorie Nel 2016 Sono stati effettuati A vasto 1.396 interventi In regime di day surgery E 562 Di tipo ambulatoriale Nell'ambito Dell'oculistica Nel complesso Sono stati 5.856 Di interventi chirurgici L'attività Del day surgery È organizzata Con un calendario Settimanale Che prevede Due sedute Di chirurgia generale Una di ostetricia Due di oculistica E alternativamente A seconda Delle necessità Una di ortopedia E urologia E di altri reparti Che ne avessero bisogno Altre prestazioni Invece riguardano Il posizionamento Di accessi venosi Per i malati oncologici Allora Le caratteristiche tecniche Del reparto È un day surgery Per cui qui Saranno allocati Tutti i pazienti Che faranno Degli interventi Chirurgici E diurni Per cui entreranno La mattina E usciranno Il pomeriggio È un reparto Con otto posti letto Proprio dedicati All'attività Chirurgica Diurna È un reparto Completamente Ristrutturato E viene diretto Dal dottor Marinucci Che è un nostro Anestesista E per cui È direttamente Collegato Con la struttura Complessa Dell'anestesia E rianimazione Anche se Questa in realtà È una unità Operativa Semplice Dipartimentale Ora ci spostiamo A Teramo Aiutateci A salvare Il teatro Dal degrado Il presidente Federico Fiorenza Lancia un appello Ai cittadini Il comunale È ridotto male Porte aperte Ad una stagione Condivisa Ma la Riccitelli Oggi annuncia Il suo cartellone Di spalla Minaccia i genitori Per avere 40 euro Una ragazza in manette Il provvedimento Riguarda una ventenne Residente ad Atria Era già stata Allontanata Dopo le aggressioni Nonostante i divieti Si era ripresentata Bussando a denari L'emergenza Il sistema d'allarme Per il problema Delle frane E poi a Giulia Novo Ospedale Adesso si va Verso la protesta Annunciate iniziative Da parte del Movimento 5 Stelle E del cittadino governante Una pagina Facebook Per il malcontento Decisi Ad azioni clamorose Anche i semplici cittadini Che non vogliono Rinunciare A perdere L'importante struttura Filippone Ha dichiarato Previsti concorsi Per primari Di cardiologia E lungodegenza E poi Giulia Nova Ladri in azione All'ex Ospizio Marino A Martinsicuro Mezzo etto Di cocaina Per la movida In manette Venditori abusivi Affollano il mercato Sulle cronache Di Alba Ora invece Ci spostiamo Sulle pagine Del quotidiano La città In apertura Pasqua Un ristorante Su quattro Non servirà Agnello Il piatto tradizionale Invece regge Sulle tavole Degli italiani Dove resta L'alimento Più rappresentativo Col diretti Dice una tradizione Sottolinea L'organizzazione Agricola Determinante Per la sopravvivenza Dei pastori Poiché in questa festività Si acquista Quasi la metà Della carne Di agnello Di agnello Consumata dagli italiani Durante l'anno E poi Il vino Abruzzese Piace ad americani Asiatici L'assessore Edino Pepe Fa il bilancio Al termine Della fiera Internazionale Di verona Strada dei parchi I disagi In vista I caselli Per lo sciopero Nazionale I dipendenti Incroceranno Le braccia Dalle 22 di lunedì Alle 22 di martedì Banche Di spalla Gialluca Iacobini Confermato Alla guida Di Abi Abruzzo A Teramo Brucchi Si consola Sui tavoli Capitolini Mentre impazza La crisi Di maggioranza Il primo cittadino È a Roma Per il sisma Le periferie E la zona Franca Approvate Dal governo Ma non ancora Specificate Nei contenuti E nei vantaggi Previste Per le città Del sisma Le zone Franche Speciali Superata quota 4.000 sfollati Nel capoluogo Il terremoto Altre 28 ordinanze Firmate ieri E dal 24 agosto 1.333 famiglie Sono senza casa In provincia Scuole superiori Il punto Sulla sicurezza Condivisa Entro il 2017 E poi I due Luciano Portano male Al partito Democratico Terramano Ginobile Critico Sulla segreteria Rapino E sui delegati Ritoccati Minossa Dichiarato Scelta civica Non è un alleato E poi L'irresponsabilità Verna Pronto a sostenere Brucchi Sulla casa Dello studente Una pizza Una pizza al veleno Dopo la riunione Di maggioranza Brucchi Furioso Con i responsabili Sbraccia E Falasca E non si escluse Il tutti a casa Come soluzione Alla crisi Il tris Responsabile Assenti Sbraccia Caccioni Caccioni Che delegano Il collega Falasca A trattare Al tavolo Della maggioranza E poi Le richieste I dissidenti Chiedono Il congelamento Per i tre Nuovi assessori Non ancora Insediati Sui banchi Del consiglio Non ci sarà Una seconda Stagione Teatrale L'Abruzzo Circuito Spettacolo Torna All'attacco Della Riccitelli Nella guerra In atto Sul cineteatro Teramano E poi La CS Vuole distruggere La prima Riccitelli La società Dello spettacolo Presieduta Dal maestro Maurizio Cocciolito Stamattina Presenterà Proprio La sua stagione Il Movimento 5 Stelle Dice Gatti È il vero Commissario Del sindaco Brucchi Andiamo avanti I teramani all'estero Via dall'Euro E da Teramo Per fare il signore Claudio Boffi Ex commerciante Del corso vecchio Di Teramo Racconta La sua nuova vita In Romania L'addio Stretto dalla morsa Della crisi Ha chiuso Il suo negozio Di pelletteria In centro E si è Trasferito Ad Oradea Con la sua Pensione IMS Provincia In viaggio Con l'Enel Nell'emergenza Teramana Grande soddisfazione Per il camper Attivato Per velocizzare La richiesta Di indennizi E risarcimenti Dopo il blackout Per gli indennizi Enel Ha disposto Ulteriori misure Per i clienti Che hanno subito Interruzioni Più lunghe E per quelli Che hanno subito Danni Dalla nevicata Pesante Di metà gennaio E' stata la stessa E' stata la stessa Enel A raggiungere Gli utenti Per rendere Più semplici Immediate Le procedure Burocratiche E poi Il viaggio L'insolito viaggio E' stata una novità Non solo per gli utenti Ma anche per i dipendenti Enel Il verde pubblico Appeso d'oro Ad alba L'ex presidente Bizzarri Presente i dati Più di 750 mila euro In quattro anni La rottura La base Dell'addio Dell'ex presidente Del consiglio Le mancate Risposte Sull'utilizzo Dei fondi Martinsicuro Nasconde in casa La coca Da spacciare Durante la Pasqua E un 47enne Finisce in manette A Tortoreto Azienda privata Ripulisce Il lungomare Dalle scritte I dipendenti Di pista Al lavoro Gratuitamente In vista Della stagione Estiva E poi Civitella La Tempor Dona 10.000 euro Per realizzare La scuola materna L'ente porto Filipponi Difende le poltrone Giulianova Al bando Le ipocrisie Sui curricula Le nomine Spettano Alla politica L'intervento Nel frattempo Giorgio D'Ignazio Vuole chiedere Una mozione Di sfiducia Contro il CDA E sempre a Giulianova Presentate le mappe Per gli stand Della festa Dello splendore Lavori in Viale Orsini Inizieranno Dopo l'estate Annunciati Prima gennaio Poi a marzo Sono slittati di nuovo E critici sono I rappresentanti Dei 5 Stelle A Roseto Il mercato Potrebbe tornare In centro E intanto Da giugno Le bancarelle Arriveranno Anche nella frazione Di Santa Lucia Lo spostamento Sarà discusso Durante il prossimo Consiglio comunale Dopo la conferenza Dei servizi E poi l'assessore Frattari La buona notizia Roseto Dice no Alla tassa turistica Per i villeggianti Cronaca ad Atri Botta ai genitori Per soldi Vent'anni in manette Una ragazza Di Atri Arrestata dalla polizia Per aver picchiato Ed estorto denaro Al padre e alla madre Lo scorso anno I genitori avevano denunciato La figlia Per le richieste di denaro E per i raptus Violenti Nei loro confronti A chiamare il centro 13 Sono stati gli stessi genitori Subito dopo L'aggressione Arroseto Conclusa Prima di Pasqua La potatura delle palme Sul lungomare Roma E poi a Notaresco Mai avuti contatti Con esponenti Del centro-destra La segretaria Dem Ha dichiarato Il sindaco Pensi piuttosto All'ingiunzione Da 300.000 euro La cultura Ammetti che la lampada Parla col telefonino Andrea Cingoli Premiata a Bruxelles Per le sue nuove Creazioni di design E poi Andiamo avanti Apriamo la pagina Dello sport Spighi non ce la fa Col Forlì Tempesti o Petrella L'ex Spal Non sarà certamente In campo Amadio intanto Presenta La sfida di sabato È una gara Davvero decisiva Un posto per due Ugolotti Presenterà In queste ultime sedute Di allenamento Al sostituto Sulla corsia Destra E in vantaggio L'ex Tutto Cuoio Tempesti Sembra avere Un vantaggio Rispetto all'esterno Di Pratola Per la sostituzione Nello schieramento Iniziale Il resto Della formazione Base Dovrebbe essere Confermata Ora noi Ci ascoltiamo Le dichiarazioni In conferenza stampa Proprio di Stefano Amadio Vediamo Non possiamo Non possiamo fare altro Che pensare al Forlì Che diventa Una partita Fondamentale E quindi Nonostante Comunque C'è Grande rammarico Siamo già Motivati Per la Cara di sabato Ma guarda Ti dico Penso di poter Fare molto meglio Sia come Singolo Come allievo Di squadra Però in questo Momento Non possiamo pensare A noi Singolarmente La prima cosa È la squadra È chiaro Che se migliorano Le prestazioni Di squadra Si esaltano Anche i singoli Credo L'importante Però è Cogliere la salvezza Più presto Ma sì Ma penso che Al di là di quello Abbiamo lavorato Un po' più Sulla testa Perché poi Puoi tutta Qualsiasi modulo Ma se In campo Non metti Determinate cose Non va bene Qualsiasi modulo Comunque sì È vero pure Che Da quando ci siamo messi Col 4-4-2 Si è vista Una squadra diversa Secondo me Sì È una partita Importante Perché è uno scontro diretto È una sfida Che secondo me Vale doppio Anche perché Secondo me Vincendo Sarebbe un bel passo in avanti Perdendo Ti scavalcano E potresti perdere Altri punti Contro le dirette concorrenti Quindi Sì È una sfida Decisiva La prepareremo al meglio E Dobbiamo cercare Assolutamente Di vincere Ma quello Passa sempre Per i risultati Io penso Che dovremmo Pensare Una partita a volta Ci dobbiamo concentrare Sul 4-2 È chiaro che Secondo me Standoci Qualche scontro diretto Anche il Modena Anche il Mantua Ce ne ha Se tu riesci a fare i punti Puoi Agganciare anche il Modena O quelle leggermente Più su Però È importante È importante uscire Dai play out Secondo me Magari è una situazione Nuova per Per qualcuno di noi Però Ho passato anche anni In cui ho dovuto Lottare per non retrocedere Quindi Insomma Fa parte del gioco E Bisogna affrontarla Allo stesso modo Anzi Con più cattiveria Ora la Serie A Ci spostiamo Sulle pagine Del centro Zenec Zeman Da tifoso A simbolo Dell'anti-Giuventinità Doping e calciopoli Il tecnico del Pescara Udiato Dagli ultra-bianconeri Uno scontro Iniziato Nel 1998 Con le frasi Sull'abuso Di medicinali E i sospetti Per i muscoli Di Biale Del Piero Il fronte è diventato Più ampio Con la questione Dei sorteggi arbitrali Pilotati E la guerra infinita Con Moggi E intanto La passione Per la Juventus L'Abruzzo Bianconero Sono 20 club Doc E 5.000 Gli iscritti Il gruppo più nutrito È quello di Teramo Giulianova Poi Alba Adriatica E San Salvo Seguono ovunque La vecchia signora E sabato pomeriggio Saranno All'Adriatico La Champions L'entusiasmo Bianconero Tutti pazzi Per Di Bala Juve Pronto per il rinnovo La doppietta contro il Barcellona In corona L'Argentino Appetito dai club spagnoli E Buffon Applaude Allegri Dice questa squadra È frutto di una sua intuizione E poi A Ortona Una macchina da gol Per continuare a sognare Dalla prima La promozione E invece Una frazione di Atri In estasi Con il Real Treciminiere Dalla delusione Dell'anno scorso Al trionfo Ci spostiamo Sulle pagine Del messaggero Sempre per lo sport E si apre ovviamente Con la Serie A Con il match contro la Juve La Juve è amica Ma non troppo Tante sinergie di mercato Tra bianco azzurri Bianco a neri Ma anche clamorosi Affari saltati Come quello Di Verratti All'orizzonte Un'altra estate Calda di trattative Colibali e del sole Verso Torino Il Pescara Sogno Orsolini E Favilli E poi Speranze per Buyback Maxi Turnover Invece Per Allegri La Lega Pro Amadio dice Teramo Un mio gol Per la salvezza Il centrocampista Non ha dubbio Obbligo vincere Contro il Forlì Ma adesso Abbiamo Un'identità Chiara E allora Con lo sport Come sempre Noi concludiamo La nostra rassegna stampa Prima di salutarci Ricordiamo Che l'appuntamento Con l'informazione Del TG6 Arriva nell'edizione Delle 14 Invece La rassegna stampa Di mattino 6 Torna domani mattina Puntuale alle 7 Buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona giornata Grazie a tutti.